bentornati amici ma soprattutto amiche eccolo qua altro upgrade per il chrysler voyager 680 litri porta tutto box auto da tetto da 680 litri della farad allora per metterlo su da solo cosa ho fatto lo sto montando è 680 litri ho preso una scala che ho messo su un po di stracci e l'ho fatto scivolare dallo scatolone vedete ho fatto scivolare qui avete visto come ho fatto intanto c'è anche abbia messo tutto al litio è rientrato via delle quelle a spiombo 2 da 100 per 4 da 120 e questa qui è una 24 volt 25,6 volt si chiama 24 o da 100 ampere 7 kilowatt di stoccaggio perché questo non funziona da solo invece questo qua combo fa da inverter e da regolatore di carica regolatori di carica questi inverter che non funziona come regolatore di carica non me l'hanno sostituito in garanzia questo inverter oggi giornata di sole dopo due giorni di pioggia ha diminuito la temperatura a 15 gradi stamattina bene adesso procedo a montarlo è sul tetto da solo ce l'ho fatta perché sennò rischiavo solo di spaccarlo è perché 20 kg 25 quello che è riesco a sollevarlo ma se cade era un disastro per cui adesso procediamo